In questa lezione spiegheremo cos'è la tecnologia, cosa sono i materiali e quali sono le loro proprietà. Ben ritrovati ragazzi! Questo è il canale di Prof.Falange Insegna, all'interno del quale potete trovare video-lezioni, tutorial, mappe concettuali e tanto altro. Quindi, se siete interessati, premete il tasto di iscriviti per non perdere i prossimi video. Oggi ci occuperemo di tecnologia. Che cos'è la tecnologia? La tecnologia si occupa dello studio dei materiali, dei procedimenti, delle macchine e delle attrezzature necessarie per la trasformazione di una data materia prima in un prodotto finito. Ricordate il ciclo vitale dei materiali? Bene! Ci sono molti tipi di tecnologie. Meccanica, tessile, chimica, alimentare, dei trasporti, delle costruzioni e così via. La trasformazione delle materie prime in prodotti finiti provoca spesso danni ambientali. Vi ricordate il concetto di impronta ecologica? Tuttavia, la tecnologia oggi ha il dovere di prevenire questi danni, ricercando nuovi modi puliti di sfruttamento delle risorse. La green economy è un modello di sviluppo economico che prende in considerazione sia la crescita economica ma anche l'impatto ambientale. Vi ricordate il modello circolare? Bene! Vediamo quali sono gli obiettivi della green economy. Per primo, ridurre le emissioni di anidride carbonica. Poi, ridurre il consumo delle risorse della terra. E infine, utilizzare tecnologie che aiutano a preservare l'ambiente. Fatta questa premessa, occupiamoci dei prodotti finiti. Perché i prodotti finiti, secondo voi, sono realizzati con materiali diversi? Abbiamo prodotti realizzati in metallo, altri con la carta, con legno, ceramica, altri ancora con le fibre tessili, il cemento, il marmo, il vetro. Domandiamoci, come mai una bottiglia viene realizzata con il vetro e non con la carta? Sicuramente perché ogni materiale ha delle caratteristiche specifiche che lo rendono adatto a determinati impieghi ma non ad altri. Quindi, queste caratteristiche specifiche di ogni materiale vengono chiamate proprietà. Quando si vuole produrre un oggetto, occorre scegliere il materiale più adatto in base alle sue proprietà e al risultato che si vuole ottenere. Quindi, per la bottiglia che deve contenere un liquido, sceglierò il vetro. Per il foglio del mio quaderno, sceglierò la carta. Ma vediamo un po' quali sono queste proprietà e come vengono classificate. Le proprietà si suddividono in proprietà fisico-chimiche, che si riferiscono alla natura del materiale e al suo aspetto. Proprietà meccaniche, che si riferiscono alla capacità dei materiali di resistere alle sollecitazioni. E infine, proprietà tecnologiche, che riguardano l'attitudine del materiale a subire lavorazioni di vario tipo. Vediamolo un po' nel dettaglio. Le proprietà fisico-chimiche, quindi, riguardano l'aspetto di un materiale. Per questo, qui, ho scelto questa icona, dove è possibile guardare l'aspetto di questa ragazza, che possiamo descrivere dal taglio dei capelli, dal colore degli occhi, dalla forma del viso e così via. Tra le proprietà fisico-chimiche abbiamo la densità e il peso specifico. Da un punto di vista scientifico, lo studierete meglio in scienze. Però qui, vi voglio fare semplicemente notare questo, che un cubetto di polistirolo, sicuramente, se viene immerso in acqua, galleggia. Mentre un cubetto di metallo, sicuramente, non galleggia. Questo dipende dalla densità e dal peso specifico dei due materiali diversi. Conducibilità termica ed elettrica. Significa che alcuni materiali riescono a condurre il calore e anche l'elettricità. Cosa significa? Facciamo questo esempio. Il materiale con cui è realizzata questa pentola è in grado di trasferire il calore prodotto dal fuoco all'acqua che sta nel suo interno. Quindi riesce a condurre il calore. Così come i cavi metallici che si trovano all'interno di questo filo della luce sono in grado di trasferire la corrente elettrica e l'elettricità. L'inalterabilità è una caratteristica che hanno alcuni materiali di non deteriorarsi a contatto, per esempio, di agenti chimici. Il punto di fusione, invece, è la proprietà che hanno alcuni materiali di passare dallo stato solido allo stato liquido a determinate temperature. Così come la dilatazione termica è la capacità che hanno alcuni materiali di dilatarsi all'aumentare della temperatura. Qui abbiamo l'esempio di una pallina di metallo che tranquillamente riesce a passare da questo foro ma che se viene riscaldata non riesce più a passare perché si è dilatata. Tra le proprietà meccaniche abbiamo l'elasticità Un esempio è costituito da questo trampolino di legno che si deforma quando il nuotatore si trova in questa posizione ma nel momento in cui il nuotatore esegue il tuffo il trampolino ritorna nella posizione iniziale. La fragilità, invece, è la caratteristica dei materiali di rompersi sotto l'effetto di un urto. Il contrario della fragilità è la resilienza. Questa è una proprietà tipica, per esempio, del vetro. Poi abbiamo la durezza che è la proprietà di un materiale di resistere alla penetrazione di una punta. Infine, la resistenza alle sollecitazioni. Abbiamo la resistenza alla flessione. Un corpo viene sollecitato a flessione quando le forze applicate perpendicolarmente al suo asse tendono a curvarlo. Come vediamo in figura, abbiamo delle forze che tendono a curvare questo corpo. La resistenza alla compressione, invece. Un corpo viene sollecitato a compressione quando la forza applicata tende a accorciarlo. Il pezzo si accorcia invece di allungarsi. La trazione è l'opposto della compressione. E poi abbiamo invece la resistenza al taglio. Un corpo è sollecitato al taglio quando le forze applicate tendono a far scorrere uno sull'altro due piani vicini. Andiamo a vedere un po' quali sono le proprietà tecnologiche e le principali proprietà. Abbiamo la malleabilità, che è l'attitudine di un materiale a ridursi in lamine sottili, così come vediamo in figura. Mentre la duttilità è l'attitudine di un materiale a ridursi in fili sottili. Infine, la saldabilità è la proprietà che ha un materiale di unirsi in un solo pezzo con un altro uguale o diverso. Infine, abbiamo la fusibilità, che è la caratteristica di alcuni materiali di fondersi e di prendere qualsiasi forma. Vediamo un po' quali tipi di lavorazioni possono subire i materiali. Abbiamo lavorazioni per fusione, che vengono eseguite a caldo, e in questo caso si sfruttano le proprietà fisiche del materiale. Lavorazioni per deformazione plastica, in cui si sfruttano le proprietà meccaniche del materiale. E infine, lavorazioni per asportazione di truciolo, che si eseguono a freddo, in cui si sfruttano le proprietà fisiche e meccaniche del materiale. La lezione è finita, non mi resta che augurarvi buono studio.